Che non siamo mai state, cioè pur io non avendo l'acqua in casa, non ero, mi incantavo e mi contentavo di contemplare la grande cisterna dell'orto della clinica Maria Teresa che questa cisterna serviva ad innaffiare il bellissimo orto che correva dove ora si trovano degli edifici moderni e che hanno distrutto sia l'orto sia la clinica perché al posto della clinica è stata trasformata in mini appartamenti e dopo essere passata attraverso la sede della telecom e altre cose e anche per sede della Loyola University per un breve periodo. Grazie a tutti.